secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie cioè mi mettono queste skin e poi pretendono che io non le acquisti un momento e non è ovviamente cioè il piccione travestito da fenicottero come fai a non acquistare una skin del genere raga come fai ad acquistare una skin del genere lo voglio molto semplicemente cioè meravigliosa raga per quale cazzo di motivo poi fare una roba del genere non si sa però avremo anche questa skin che ti guarda con lo sguardo di chi sta guzzando la andiamo io direi che possiamo concentrarci e il pompa spara molto bene tua madre si sassala fassal flesal no tte mattutine con xy dir se fate le grance vi do 100 euro a testa ha detto zane se fate le grance ve le do io mille a testa per darmi la pova esclusiva tranquilli non vi preoccupate attenzione mentality e vi posso dire che c'è un problema ma poi mi ha comprato un casco di banane che comprendeva 5 banane una l'ho mangiata ieri una la mangio adesso mi fa male il culo e ce ne sono solo due rimaste io non so non so ma ne prendo due nel nome del padre e del figlio e dello spirito smadonnato la madonna grazie del signore nostro Gesù Cristo l'amore di Dio padre e la comunione dello spirito santo siano con tutti voi ma vada a fare in culo lei chi non glielo dice non si la kill vorresti qui tra 4 e 2 ci troviamo una madre infatti ragazzi dopo andate la ciove siete pieni no no domani live regolare attenzione dopo di questo ci sei? maybe dipende quanto le dure il game dentro così se muore di start o no 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 ma cosa sta facendo sto meditando per non dover andare a chiacchier è una meditazione molto complicata ah quindi sparta tu dici che con l'arciere pirotecnico la prendo nel culo ci sta tolgo il tronco e metto le frecce aumento di uno il deck frega un cazzo quanto mi sta senza problemi il medaglione ora devono solo stare attenti a non essere clean nappati dai due giocatori che non stavano aspettando altro ed infatti è ciò che sta succedendo bravo però Pizzi con il triplo 29 arriva il no che poi l'ha pompata anche sul secondo nice manca pochissimo entrano bello così bello molto molto bene vincono anche il fight oltre ad aver preso il medaglione nice andiamo un attimo da Tom lo seguiamo che si chiama pod questo pod è aromatizzato ok in questo caso il mio è limone basilico perché mi piace un casino il pod lo prendi lo metti esattamente sopra non puoi sbagliare c'è proprio una direzione c'è una freccia lo metti sopra se lo schiacci completamente tu puoi bere normale e stai bevendo acqua non sa di niente se lo tiri su il pod si attiva e in questo caso sa di limone basilico come funziona? è l'olfatto retronasale fondamentalmente prendiamo per il culo il nostro corpo tu bevi acqua ma l'aroma che tu respiri dice al cervello che stai bevendo qualcosa che ha un gusto diverso dall'acqua easy se fate fatica a bere tanta acqua ecco questa è la soluzione tra parentesi punto esclamativo ai rap in chat codice xyuderone 10% di sconto su tutto tranne le promo fatelo raga è una figata è una figata edo france sottolineatura sette mesi bella schumi saluti sono davide merlo ciao edo sei davide merlo ciao davide merlo come stai non è notato è tutto free piazza si si c'è pure il rampino mi hanno visto mi hanno visto zane sono morto no no scappa zane non esiste oh no no zane zane ci sono completamente pazzi no no zane 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 mi hanno risposto servizio clienti fermi ok consegna che cazzo adesso gli ho già detto che se non consegnano oggi che non esco domani chiamo e gli dicono lascia in sede o stasera basta il bacio te lo picco nel culo non lo voglio questo posso dartelo è bianco il bro c'è no perché questa la dovevi buttare ieri Cristo ghigri 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 siamo sotto ciao bello xd tre mesi xd puoi salutare il mio amico soju certo ciao soju vaffanculo va avanti così lo gioca con vanto figa lo gioca con vanto sta merda mentaliti guys per favore dai non ho voglia di ordinare a pranzo se me lo paga xd l'ordino xd suu kai festo da mi dia 20 euro xd che le frega errore mio ragazzi sapete che se muoio di fame è colpa di chiudere se muoio di fame potrebbe mangiare più due mesi di fila avrei le riserve è morto Ernesto è morto Ernesto che vengono chiamati i punti consistent che poi vengono addizionati al round 2 le quali fire 2 che saranno fra una settimana credo i migliori vanno poi a fare la fase successiva che permette l'accesso se fai bene alle grand final due mesi ciao Nabi grazie dei due mesi il Davide dice complimenti continuate così siete favolosi grazie mille Davide grazie mille Davide ce la mettiamo merda il Davidone quanta gente che ci fa dei bei commenti grazie raga da un cazzo raga a nessuno fa entrare provi in pubblica non è un problema salutiamo anche Davide Roberto Zucchelli Lucas Lauren, Stefano Dorgia Vimer, Fabio Chini Simone Sivieri e buongiorno anche a Sadas Vlas io voglio vedere il 10,1 mila oggi ma te l'ho detto Orbe che questa mattina ci ha andato un'altra data? suoniamo a Udine alla fiera del fumetto l'11 febbraio è Udine su in frioli sicuro?